Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margie, oggi vi proponiamo un pan brioche sofficissimo e gustosissimo, in una ciotola verso 250 ml di latte tiepido, 30 g di zucchero semolato, 15 g di lievito di birra fresco, mescolo e aggiungo 100 g di farina manitoba, lascio riposare per 30 minuti, dopo questo breve riposo unisco 40 ml di olio di semi di girasole, un uovo, 70 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, aggiungo gradualmente 400 g di farina manitoba, concludo con 5 g di sale fino, A presto! A presto! Ho tenuto un composto molto morbido, copro con pellicola trasparente e coperchio e lascio lievitare fino al raddoppio. Trascorso il periodo di riposo riprendo l'impasto e lo stendo con il matterello, realizzando un rettangolo, per far questo mi aiuto sempre con un po' di farina. Partendo dal lato più corto avvolgo su se stesso l'impasto. Trasferisco l'impasto in uno stampo da plum cake che ho precedentemente rivestito con carta forno, coprirò con pellicola trasparente e lascerò lievitare ancora un'ora. Dopo questa ulteriore lievitazione spenello la superficie con un tuorlo d'uovo e un po' di latte ed in forno in forno caldo a 170 gradi per circa 35-40 minuti. Ebbene amici se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento ed iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!